Roma, teatro centrale, una serata, un dinner gala d'assoluta eccellenza, un binomio eccellente, quello tra Mamart e New East Foundation. Siamo in compagnia dell'avvocato Alessia Montani per dire ai nostri video ascoltatori che cos'è Mamart. Ho fondato questo brand Mamart con l'idea di unire l'arte contemporanea alla vita quotidiana, alla vita di tutti i giorni e quindi l'arte nel binomio con la moda, in particolare questa sera con gli artisti Valeria Corvino e Giulio Rigoni che hanno realizzato per Mamart dei tassuti legati appunto al mondo della moda. Per cui Ivan Donov ha realizzato per noi degli abiti e dei capi con i tessuti Mamart realizzati dalle opere di Valeria Corvino e Giulio Rigoni. Io so che l'avvocato deve accogliere gli ospiti per cui non la tratterremo troppo a lungo, però qualcosa di eclatante su stasera lo dobbiamo raccontare. Per esempio un'anticipazione per i nostri video ascoltatori sulle opere che saranno sul palcoscenico ad un certo punto. Ecco che cosa accadrà perché sarà un momento veramente emozionante. Sì, abbiamo pensato di fare una performance in cui gli artisti Valeria Corvino e Giulio Rigoni taglieranno, strapperanno i tessuti realizzati da loro stessi per regalare una striscia ad ogni ospite in ricordo di questa serata in cui l'arte fa da protagonista. Ultima cosa, l'avvocato e Mamart non sono nuovi a questo tipo di iniziative, ricordiamo le iniziative in programma ad Istanbul. Sì, abbiamo realizzato delle bellissime iniziative ad Istanbul, abbiamo partecipato anche agli off dell'abbiennale e continueremo anche quest'anno con un fitto programma di eventi ad Istanbul e speriamo anche a Baku, una città dell'Azerbaijan molto aperta alla cultura e che speriamo ci ospiterà per una prossima mostra. Noi ringraziamo l'avvocato Alessia Montani e la lasciamo naturalmente ai suoi ospiti. Alessia Montani e la lasciamo naturalmente ai suoi ospiti.